Nasce la prima rete nazionale delle infiorate e delle composizioni di arti effimere promossa dall'UMPLI, l'Unione Nazionale Proloco d'Italia e presentata al Ministero della Cultura. L'iniziativa ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare l'infiorata, una ricorrenza in grado di legare le comunità locali alle proprie tradizioni, facendole avvicinare ad un rito con oltre quattro secoli di storia attraverso la creatività e la passione di artisti e volontari che utilizzano le tecniche e i materiali più disparati, dai petali ai truccioli, fiori all'uncinetto, sale, sabbia o legumi. Antonino Laspina, presidente dell'UMPLI. Sono presenti più di 74 infiorate provenienti da ogni parte d'Italia, alcune in comuni veramente piccoli, anche di 100 abitanti, che vogliono però dare il loro contributo e vogliono far capire la loro identità locale. Questo è un messaggio che vuole arrivare da ogni posto e un invito a visitare anche questi luoghi, perché è bello girare l'Italia e scoprire queste eccellenze e capire anche quanta storia abbiamo da raccontare. Uno dei principali appuntamenti è l'infiorata delle Proloco d'Italia, che dal 2018 riunisce di fronte alla Basilica di San Pietro, un gruppo nutrito di volontari da tutta la penisola, che porta avanti questo inestimabile patrimonio culturale immateriale, offrendo uno spettacolo di colori unico, che adorna e profuma il sagrato durante il giorno dei Santi Patroni della Capitale. Il presidente della Centro Studi per il Patrimonio Culturale, Fondazione Proloco Italia, ETS, Fernando Tomasello. È la prima rete nazionale, ci tengo a dire questo, la prima rete nazionale che l'UMPLI attraverso il Centro Studi e della Fondazione sta promuovendo. Saranno parecchie le reti, saranno reti che sono quelle che è previsto dalla Convenzione UNESCO, cioè Patrimoni Immateriali Culturali, ed è un momento straordinario di coordinamento a livello nazionale, di realtà che fino ad oggi non si sono parlate, si sono parlate parzialmente. Con il Centro Studi, con la Fondazione, l'UMPLI intende fare un lavoro di coordinamento appunto, ma soprattutto di valorizzazione, promozione, salvaguardia di questi patrimoni straordinari che l'Italia ha e che fino ad oggi non sono stati, grazie al Ministero non riusciamo a farlo, non sono stati coordinati e censiti.